salve salve sono felice che tu sia qui per visitare la teiera gigante tra le attrazioni più interessanti di tutta la palacchia ti servirei il nostro miglior tema non dispongo del miele necessario ma certo prima di decidersi per la teiera i proprietari avevano pensato di creare il più grande gomitolo di spago del mondo ma c'erano già notevoli controversie a riguardo se me lo chiedi Kansas sono il tuo umile ed entusiasta anfitrione Giles Sweetwater ma puoi chiamarmi semplicemente Sweetwater eccellente la foresta deve esserne piena meglio darsi una mossa grazie a tutti